Pace e bene, oggi ti racconto una storia. C'era una volta un re che un giorno mandò a chiamare i suoi tre consiglieri e disse al primo voglio che tu mi dica che cosa pensi di me e del mio operato, in cambio ti prometto che ti darò questa pietra preziosa. Il consigliere disse maestà ma quando mai si è visto un re bravo quanto lei, attento a tutto, è veramente il numero uno. Grazie gli disse il re, tieni questa è per te. Il re mandò a chiamare il secondo consigliere e gli disse senti vorrei sapere che cosa pensi di me e del mio operato, in cambio ti prometto che ti darò questa pietra preziosa. Il consigliere disse maestà io ne ho visti tanti di re ma le assicuro che bravi quanto lei non ce ne sono stati e secondo me mai ce ne saranno, viva il re! Grazie gli disse il re, tieni questa è la tua pietra, vai pure. Arrivò l'ultimo, il più anziano. Il re gli disse senti voglio che tu mi dica cosa pensi di me e del mio operato, in cambio ti darò questa pietra preziosa. L'anziano lo guardò e gli disse maestà la verità non apprezzo, io non le dirò nulla. Va bene, non ti darò nulla disse il re e non ti farò nulla ma dimmi in verità cosa pensi di me e del mio operato. Maestà, gli disse il consigliere, io penso che lei stia opprimendo il suo popolo e si stia comportando in modo ingiusto, non ha cuore per chi è più povero ed è troppo preso soltanto dalla sua ricchezza. Grazie, disse il re, puoi andare. Il giorno dopo uscì un editto, il re aveva nominato come suo vice il consigliere più anziano. I primi due invece arrivarono al palazzo nervosi, ansimanti, di corsa. Il re gli andò incontro e disse loro beh, che vi succede? Maestà, gli dissero, ma come? Non solo ha proclamato come suo vice il consigliere più anziano ma in più ci ha anche presi in giro. Guardi, le sue pietre preziose sono false. Sì, gli disse il re, lo so, sono false, proprio come le vostre parole. Morale della storia, quante volte si vive schiavi del giudizio degli altri, più preoccupati di ciò che gli altri pensano di noi piuttosto di ciò che noi siamo? Quante volte poi usiamo gli altri per raggiungere altri interessi, rimanendo schiavi di noi stessi? Sant'Agostino, riprendendo altri filosofi, disse che nessuno può essere vero amico delle persone se prima non è amico della verità e la verità è sempre fonte di libertà. Che il buon Dio vi benedica!